In una commissione, quella dell'immigrazione, dove purtroppo devo condividere anche dei personaggi abbastanza strani, perché, non so se ve la ricordate, ma io lassù ho Cecil Chienge tutti i giorni, la quale dice che siccome in Europa non si fanno più figli, e soprattutto in Italia, allora gli anziani d'Europa e d'Italia, gli anziani del Veneto, devono essere sostituiti con giovani immigrati.